La mafia dei Pascoli rivive una sua modernità contemporanea grazie al business dei fondi europei e alle truffe che i colletti bianchi, avvocati e commercialisti al soldo delle nuove cosche riescono a commettere. Dalla vicenda delle sorelle Napoli, perseguitate perché indisponibili a lasciare i loro terreni sulle madonie, alle trame della mafia sui nebrodi. Ma nessun pezzo di Sicilia è esente da questi rischi. Lo dimostra l'operazione compiuta stamane dalla Guardia di Finanza tra le province di Palermo, Enna Messina e Caltanissetta. I boss mafiosi erano riusciti a truffare centinaia di migliaia di euro di fondi europei. Uomini di Cosa Nostra e imprenditori agricoli insieme in un nuovo patto del tavolino attorno ai terreni del Parco delle Madonie e quello dei Nebrodi. Oramai la parola chiave delle mafie è una sola, convergenza di interessi. In nome degli affari si chiudono gli accordi più diversi anche stravolgendo le classiche suddivisioni di territori e competenze. È la mafia liquida che scorre nel fiume di soldi pubblici che attraversa l'Italia. I magistrati della procura di Caltanissetta, i finanzieri del GICO e del Servizio Centrale Investigazioni sulla criminalità organizzata hanno scoperto una maxitruffa sui fondi europei. Sono 11 le misure cautelari emesse dal GIP fra Enna Messina e Palermo, sei in carcere e cinque ai domiciliari. L'indagine delle fiamme gialle ha ricostruito flussi finanziari e investimenti. I mafiosi sono tornati alla provincia, alla realtà periferica dell'isola. Forse ritengono che ci sia una minore attenzione da parte degli inquirenti. Di sicuro puntano ad accaparrarsi un pezzo di territorio che in Sicilia vale davvero tanto. Nell'ultima indagine è scattato pure un maxisequestro di beni. Riguarda immobili, aziende e disponibilità finanziarie per un ammontare di 7 milioni di euro.